Oggi facciamo degli snack di asparagi e speck e dei cestini di sfoglia ripieni di crema al mascarpone e gorgonzola. Golosi? Dai, adesso li prepariamo! Partiamo dai nostri cestini ripieni di mascarpone e gorgonzola. Questi sono gli unici ingredienti che ci servono, un rotolo di pasta sfoglia e del mascarpone con gorgonzola. Io l'ho trovato anche con dei pistacchi, però potete scegliere anche le noci, le nocciole, quello che vi piace di più. Dovendone fare solo 4 mi basta questa piccola confezione da 170 grammi. Se siete di più potete prendere una confezione di mascarpone e una bella fetta di gorgonzola. Con il cucchiaio formo una bella cremina con il mascarpone e il gorgonzola. Se dovesse risultare un po' troppo dura possiamo aggiungere o un cucchiaio di latte o, per i più golosi, un bel cucchiaio di panna. E questa è giusta. Adesso prendiamo la pasta sfoglia, una tazzina, un bicchiere, quello che avete del diametro di 12-13 centimetri e facciamo dei cerchietti. Con quella che rimane non si spreca niente e verrà utilizzata per la prossima ricetta. Ecco qua, la base nei nostri cestini è pronta. Con i nostri 4 dischi di pasta sfoglia che abbiamo ottenuto andiamo a foderare una teglia da muffin al contrario. In questo modo, in modo che cuocendo si formino veramente questi bei cestini. Pressiamo leggermente. E con questa fantasia possiamo sbizzarrirci in un milione di modi, riempirli con dell'insalata russa, con un cocktail di gamberi, con quello che più ci piace. E adesso inforniamo i nostri cestini a 180 gradi, un quarto d'ora, 20 minuti e controlliamo sempre. Mentre i nostri cestini sono in forno a cuocere, prepariamo invece gli snack con gli asparagi e lo speck. Quindi prendiamo il resto della pasta sfoglia che c'è avanzata, qualche fettina di speck, gli asparagi, visto che siamo in 5 ne faccio uno a testa, il rosso dell'uovo, il bianco dell'uovo e un paio di cucchiai di parmigiano. Ho messo a sbollentare per 5 minuti i nostri asparagi, non devono essere proprio cotti perché tanto poi li rimettiamo in forno. E ho tagliato con la pasta sfoglia avanzata 5 striscioline. Adesso le pennello con il bianco dell'uovo. E poi ci passo il parmigiano in modo che rimane bello appiccicato. Presso leggermente. Ok, perfetto, primo passaggio fatto. Adesso prendiamo il nostro speck, lo pieghiamo a metà su ogni strisciolina. Ho preso la teglia del forno, l'ho foderata con la carta forno, ho asciugato gli asparagi. Adesso ne prendiamo uno per volta in una bella striscia e cerchiamo di arrotolarlo in questo modo. E facciamo così per tutti i nostri asparagi. E partiamo dal fondo dell'asparago in modo che rimane fuori la puntina. e procediamo così. Questi sono i nostri snack di asparagi. Ultimo passaggio. Li spennelliamo con il rosso dell'uovo. Dopodiché abbiamo tolto i nostri cestini dal forno, facciamo cambio e infiliamo questi. Sempre a 180 gradi, circa un quarto d'ora, 20 minuti. Ho sfornato i nostri cestini, si sono raffreddati. Adesso possiamo riempirli col nostro gorgonzola mascarpone. Ci aiutiamo con un occhiaino. Ed eccoli qua. Siamo pronti per sfornare. Eccoli qui. I nostri snack di asparagi e steck. Adesso li lasciamo raffreddare un attimo e poi impiattiamo. La preparazione è stata veloce. La cottura pure. Appena le servirò in tavola, spariranno in un secondo. Io mi ritengo proprio soddisfatta. E voi cosa ne pensate? Ricordatevi di iscrivervi gratuitamente se non l'avete ancora fatto al mio canale YouTube. E se il video e la ricetta vi sono piaciuti, mettete mi piace. E ora, buon anno a tutti. E come sempre, tutti a tavola con Laura. Grazie a tutti.